Il nostro giro per il quartiere fieristico è quasi giunto al termine, ma catturano la nostra attenzione le macchine dello stand targato dalla vecchia. Tra le divisioni presenti in azienda, agricoltura, industria, noleggio. Ma come si è arrivati a tanto? Ci racconti un po' quella che è la storia di questa azienda? Le radici della mia azienda partono proprio da Vicenza. Poi il tempo e l'evoluzione della nostra attività ha fatto sì che siano diventati concessionari di sei province per CNH. Partiamo dalla provincia di Mantova e facciamo la restante provincia del Veneto. E quali sono le caratteristiche che hanno permesso una storia tanto importante? L'attenzione al cliente. La prima cosa è il servizio, non solo vendita, quindi l'assistenza, le riparazioni e l'adeguarsi all'evoluzione del mondo moderno con il noleggio, i sistemi di guida satellitare, l'agricoltura di precisione, tutta una serie di attività che hanno completato il ciclo. Il presente nella nostra azienda è sicuramente orientato al servizio al cliente. Un altro degli impegni fondamentali che portiamo avanti con impegno e passione tutti i giorni è la ricerca di macchine e attrezzature innovative, altamente specializzate, che sono principalmente focalizzate in una riduzione dei costi per i nostri clienti e allo stesso tempo permetter loro di ottenere una maggior produttività. La tecnologia quindi in questo settore può veramente fare la differenza? Può rendere un'agricoltura sempre più sostenibile ma dall'altro parte anche più efficiente? Specialmente negli ultimi vent'anni questo settore ha visto dei notevoli passi in avanti dal punto di vista degli sviluppi tecnologici. Noi che siamo rappresentanti del gruppo CNH per tutti e tre i marchi e per i prodotti a marchio JCB siamo già pronti a fornire ai nostri clienti macchine ad emissioni zero, macchine che utilizzano motori elettrici, quindi 100% elettriche, macchine che funzionano con biometano allo stato gassoso, macchine che funzionano a biometano allo stato liquido. E qui oggi in Fiera c'è qualcosa in particolare che avete presentato? Qui in Fiera abbiamo presentato tutti i fiori all'occhiello che la nostra azienda oggi è in grado di offrire, di proporre. Qui dietro di me c'è il nuovissimo frutteto che New Holland ha lanciato sul mercato, una macchina che fa del confort per l'operatore, della riduzione dei consumi e delle prestazioni idrauliche, uno dei suoi cavalli di forza.